buonasera a tutti ragazzi buonasera rettore mi scuso con tutti se non c'è una musica di sottofondo ma dovevo metterla io e mi si è rotto il pc esattamente mezz'ora fa purtroppo silenzio è duopo lo accettiamo visto che oggi tutti sono in lutto visto che oggi tutti sono solidali allora ci stringiamo anche noi a questo cordoglio a questa ipocrisia questa falsa solidarietà ecco volevo fare un po di polemica sempre 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 saluto tiziana buonasera e saluto entreri buonasera cari e buonasera buonasera e ho visto che no non è più presente era presente massi mirto ma è uscito evidentemente avrà dei problemi e niente ragazzi attendiamo un altro paio di minuti e poi iniziamo questo dopo scuola in cui abbiamo scelto un tema come per per intrattenere meglio la discussione e oggi si parlerà ovviamente come al solito di cose belle in contrapposizione con quello che viviamo all'esterno cerchiamo almeno nel nostro piccolo mondo di dare un contributo un'accezione positiva ai nostri giorni ecco e oggi infatti parleremo di come approcciare ad un percorso di studio culturale o che sia di un hobby particolare che ritiene che attiene comunque sia all'ambito culturale del nostro vivere e lo facciamo attraverso l'aiuto dei nostri cari professori che chi per un verso lo è per per lavoro quindi chi davvero è professore chi invece non lo è ma lo è ad onorem ognuno può dire la sua attraverso la scuola mattonista e quindi ci può anche aiutare a tracciare il nostro percorso di studio che può essere sia utile sia dal punto di vista culturale personale ma anche nella vita di tutti i giorni di come affronteremo il nostro il nostro percorso quindi io parlo soprattutto come sapete personalmente questa è l'unica scuola dove il rettore è appunto uno studente quindi io insieme all'aiuto dei professori scelgo il tema di cui parlare in base alle mie esigenze da studente appunto e dopo insieme valutiamo cosa può essere utile per tutti gli altri studenti come me appunto attraverso le lezioni e la scelta dei temi quindi io vi ringrazio per per la partecipazione e non so possiamo anche iniziare a parlarne e ho visto che è entrato anche sinesius che invito a partecipare e niente se vogliamo parlare entrere uscito quindi già trovato noioso i miei discorsi molto bene allora tiziana sei sì sì ci sono ci sono tu tu hai fatto l'università giusto sì 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 ho fatto l'università tanti tanti anni fa tanti anni fa ma non è un problema questo sicuramente era la didattica era migliore di quella che sto vivendo io personalmente tanti miei coetane sì sì in effetti da quello che sento sì decisamente doveva esserlo e non lo è più e ascoltami tu parallelamente agli studi tu che hai fatto storia dell'arte se non erro giusto sì 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 fatto lettere lettere la specializzazione non esisteva all'epoca storia dell'arte esisteva lettere poi prendevi una specializzazione storia dell'arte adesso non so se esista credo sia valga lo stesso discorso per la storia dell'arte lo puoi fare la triennale attraverso sia lettere ma anche ho visto beni culturali cose del genere tipo per il turismo e dopo fare la specialistica io non sono talmente anziana che non so neanche cos'è la biennale l'arte cioè la laurea che ho fatto io era proprio quella quella degli anziani quella dei vecchietti io invece al contrario non riesco a immaginare come tu non possa cogliere il fatto della triennale o meno quando invece sento che è una cosa che non esisteva proprio prima no no senti ma tu parallelamente parallelamente a il tuo percorso di studio universitario leggevi libri ti incuriosivi rispetto a qualcos'altro tantissimo come 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 riuscivi a ricavare quel tempo magari avevi anche un lavoro partai avevo anche lavoro ovviamente come riuscivi a coniugare il tutto che sembra una domanda una domanda banale quando invece io personalmente sto sto veramente scontrando dei problemi a coniugare il tutto ho tanta voglia ma il tempo mi sembra molto poco sì allora effettivamente il periodo universitario forse è stato il periodo in cui ho letto e mi sono ingrosita di meno rispetto a tutto il resto della mia vita perché come giustamente dici tu tra il lavoro e l'obbligo dello studio diciamo delle materie in cui già dovevo comunque sostenere gli esami era sicuramente più difficile dedicarsi alle cose che magari mi potevano incuriosire di più ricordo invece con un grande piacere il periodo subito dopo dopo la laurea e forse anche quello prima quello del liceo in cui davvero avevo tempo di dedicarmi a studiare tutto quello che mi piaceva poi vabbè ho avuto anche la fortuna di fare lettere quindi poi già quello che studiavo era più o meno quello che mi interessava e mi coinvolgeva parecchio però notavo sempre che c'era qualcosa in più ovvero è una caccia al tesoro quando studi qualcosa che ti piace moltissimo come nel mio caso dire lettere storia storia dell'arte filosofia e vedevo sempre che al di là del dell'esame c'era sempre molto molto di più ogni esame arriva una piccola porticina verso un mondo gigantesco io non riuscivo ovviamente ad esaurire il tempo che mi che che avevo e e quindi avevo questa abitudine di di segnarmi su un cioè ce li ho ancora questi quaderni dei quaderni le le bibliografie cioè mi segnavo le cose che un giorno avrei voluto leggere bene come si deve perché non avevo il tempo per farlo e e questo mi è stato è stato molto d'aiuto ma lo faccio ancora adesso un'abitudine che ho ancora adesso di segnarmi tutto quello di cui sul momento dico ah bello interessante però adesso sto facendo questo questo quest'altro non ho tempo me me lo segno e quindi ho cominciato a a prendere questi appunti in cui mi insegnavo le cose che avrei voluto vedere film e libri non soltanto è solo parlando di libri o opere d'arte qualsiasi cosa fosse interessante per me in quel momento e poi le varie associazioni tra le cose dai studiavo un periodo particolare della della storia e cercavo di dare a curiosare quali erano anche nelle altre arti quali erano i legami quindi se sto facendo esempio perché concerne la scuola mattonista studiavo filosofia o anzi ricordo ecco adesso mi viene in mente un esame in particolare latino medievale e il professor di latino medievale faceva anche paleografia e diplomatica o comunque anche filologia romanza e quindi si 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 collegavano tra di loro le lezioni venivano fuori delle delle connessioni interessantissime tra le materie tra le opere e questa è stata diciamo la mia fortuna avere degli insegnanti che ti ti davano ti davano cibo cibo per la tua fame di conoscenza perché erano sempre forieri di grandissima cultura e quindi anzi se volevi veramente esplorare avevi avevi tantissimo e poi avevo anche una una rete di amicizie all'epoca in cui non esistevano i social avevo una rete di amicizie fisiche che che all'epoca aiutò molto erano ragazzi con cui condividevo non necessariamente con compagni di università hanno avuti pochi compagni di università perché lavorando frequentavo pochissimo lezioni ma proprio persone che ha avuto la fortuna di incontrare di frequentare che erano delle fonti anche loro inesauribili di suggerimenti e spunti ricordo che le mie più belle folgorazioni culturali sono state soprattutto indicatemi da altre persone da amici questo caso quando rimasi estasiata di aver letto ricordo il monte analogo o i canti di mal d'or di mollo tramò non sono stata io scoprirli sono sono state altre persone indicarmelo e persone con cui sono a cui sono sempre riconoscente per me sono ovviamente scolpite ormai nella memoria per avermi fatto scoprire un sacco di cose belle quindi riassumere poi per lasciare spazio agli altri direi due cose principali quando non avete il tempo segnatevi comunque la cosa perché poi la memoria è labile poi si perdono poi diventano troppe quando ce ne sono centinaia nessuno si ricorda più niente e poi adesso poi nell'epoca dei social veramente veramente facilissimo all'epoca allora molto di meno trovare le persone giuste i mentori giusti quelli che ti che ti sanno consigliare bene quelli che hanno quelli che ti ti dicono le cose giuste da leggere e tu dici ma quali sono le cose giuste alla fine sono quello che ti piace quello che ti emoziona non c'è una cosa giusta non siamo eruditi non è che dobbiamo diventare delle enciclopedie le erudizie sono sempre stata contro le erudizioni ma per la cultura quindi non necessariamente sapere tutto di tutto o poco e tutto male come succede in questo ma le cose che ti emozionano le cose che ti piacciono sai cose che ti fanno ti esaltano e allora quel punto sì avere persone così come ad esempio per me in questo momento sono i professori della scuola i professori della scuola per me sono le persone che potevano essere i corrispettivi di quelle persone che all'università liceo quando ero giovane mi davano sempre consigli io vesso il povero Sinesus che ogni volta che cita qualsiasi opera qualsiasi libro lui lo sa bene me lo ripeti me lo compro me lo segno me lo guardo e quindi diventano diventano ci si arricchisce anche soprattutto così e chiudo perché se non parlo troppo grazie grazie a te beh grazie a te quindi Efesso se vuoi aggiungere qualcosa vedo che dai la mano sì se doveva parlare qualcun altro lo lascio parlare se no aggiungevo no no tanto ora parliamo tutti non ti preoccupare vai vai di pure no volevo solo aggiungere la mia esperienza che per certi versi è simile a quella di Tiziana per altri è molto diversa nel senso che io non ho fatto l'università lavorando ma l'ho fatta proprio in full immersion e mi prendevo da un professionale e quindi non c'entrava assolutamente niente con l'università che ho fatto che è stata filosofia e per me appunto passare da un professionale a filosofia è stato già solo quello un po' entrare ad Arcadia diciamo per me è stata la un paradiso terrestre in terra in più avevo la fortuna di avere accanto a me persone che mi stimolavano ancora di più come appunto parlava Tiziana e tramite loro e anche tramite l'università stessa ho preso un sacco di spunti ho iniziato a studiare varie cose a capire cose che per me erano arabo perché ero molto ignorante lo sono ancora ma all'epoca lo ero ancora di più e quindi niente poi durante il tempo universitario in realtà avevo poco tempo per approfondire altre cose perché appunto dovevo fare gli esami e quindi per forza di cose studiavo poco al di là delle materie insomma di esame dopo avrei avuto più tempo però purtroppo la vita è un pochino scema ho avuto una serie di problemi e quindi mi ci sono dedicato meno di quello che avrei voluto però nel frattempo avendo avuto tanto tempo da dedicare all'università e quindi anche da stare nel luogo universitario ovvero sia io l'ho fatta a Bologna in università e a Bologna chi la conosce sa che comunque l'università a parte il fatto che è sparsa la sede quindi per forza di cose devi andare da una parte all'altra e spesso negli angoli nelle piazzette eccetera è pieno di bancarelle di libri cosa ho fatto mi sono riproposto tutte le volte che vedevo un libro interessante e magari anche a un prezzo basso perché spesso erano libri usati e anche in edizioni che a me piacciono di più di quelli recenti ma questo è un altro discorso e io lo prendevo me lo portavo a casa e lo mettevo lì poi ho detto un giorno quando avrò tempo me li riguarderò e me li leggerò tutti e in questa maniera mi sono fatto una libreria intera di cose che mi interessavano e che mi interessano ancora spendendo anche pochissimo perché appunto tutte edizioni molto vecchie eccetera ma pian piano adesso che ho un po' più di tempo li sto riprendendo li sto rileggendo e via insomma niente so era questo che volevo aggiungere diciamo lasciamo la parola entreri magari entreri mi perdoni se intervengo volevo scusami poi veramente ti lascio la parola una parola solo riguardo a come possibile mantenere quell'abitudine di crearsi comunque continuare a studiare anche dopo quando si ha una vita lavorativa estrema questo ci tenevo a dirlo perché come voi sapete lavoro lavoro tanto nel senso lavoro per molte ore al giorno e faccio anche un lavoro che non mi piace particolarmente quindi in realtà per me è un premio la sera a sera io alle 9 e mezza qualissiasi cosa possa succedere a parte stasera che abbiamo la nostra cosa io sono io sono a studiare a leggere a studiare a per me è proprio è una necessità non è neanche un'imposizione è un episodio ma io non ho tempo di leggere sì perché fai altro non perché non è possibile non avere tempo di leggere perché stai facendo qualcosa io proprio studio io continuo a studiare tutte le più che altro tiziana non è possibile non ritagliarsi uno spazio per il tuo bene per il tuo interesse quindi se ti interessa tanto non è possibile che tu non trovi il tempo un'ora al giorno per se è davvero il tuo interesse sì 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 ma come tutte le cose io credo che il tempo forse ce n'è abbastanza è solo che non riusciamo veramente perché un po comunque sia ti ci devi mettere con dedizione e anche dei piccoli sacrifici li devi pur fare nonostante siano dei sacrifici che magari li fai poi con piacere e non te ne accorgi neanche che li stai cioè li tramuti da sacrificio diventa un vero e proprio gioco però all'inizio magari a partire a prendere questa bella routine magari può sembrare un po un po pesante però io sono sono anche del parere che scavalcata questa linea dopo diventa davvero un'abitudine alla quale uno dipende perché diventa una droga nel senso che ti fa stare bene sì esatto esatto soprattutto dopo una giornata brutta sul lavoro abbruttente una giornata che sai che non hai contribuito al al benessere di nessuno perché magari magari sai sai che non è stata una soddisfazione personale più che altro perché sin dal primo giorno che ti ho conosciuta ormai saranno passati tre quattro mesi mi hai sempre detto che il lavoro che fai non ti piace non ti credo che è una cosa che onestamente mi mi fa male perché sei una bellissima persona quindi mi dispiace sentirti dire una cosa del genere nonostante tu abbia un un signor lavoro che tante altre persone magari non possono avere o non riescono ad avere quindi magari ci dedicheremo una serata proprio a questo fare il lavoro che ti piace o che serve quindi mi è venuto questo spunto magari ne riparleremo in un'altra serata che è molto interessante sarebbe bellissimo special giorno d'oggi che che il lavoro è davvero non è più una è diventato un privilegio diciamo il lavoro ecco che poi non è neanche proprio così perché vabbè nel senso che apriamo lasciamo la parola entreri che che da tanto assolutamente chiedo anche scusa professore entreri stasera del non averlo ancora sentito fa male tutto tuo buonasera a tutti buonasera rettore buonasera professore festo buonasera professoressa tizi cerco di essere breve perché già hanno detto tante cose io do solo uno spunto la prima cosa che impariamo da piccoli e leggere eh io mi ricordo questa fotografia ma avrò avuto otto nove anni che mi sono sparato ventimila leghe sotto i mari da lì è nato un amore sviscerato per verne che ha portato alla fantascienza e poi ha portato al fantasy e poi ha portato tante altre cose quindi buttatevi alla televisione se non per guardare film di che genere qualunque tutti i film sono interessanti hanno da dire qualcosa che la settimarte è proprio la mia preferita c'è stato un periodo che in gioventù universitaria avevo gestito un piccolo cineforum con quelli che erano gli amici cellini quindi il tema era sempre molto di quella roba lì no però mi ha educato uno sguardo sul cinema è una curiosità cioè ci sono almeno due film all'anno belli che possono essere visti e trovateli e la scuola era un interesse ovviamente si fanno le superiori io sono un proprio un perito meccanico e poi ho fatto economia come sapete penso molto a un certo punto della vita mi è interessato all'economia perché avevo studiato cose lì una volta si studiava seriamente anche negli istituti tecnici e si faceva un po di economia mi era piaciuta e avevo voluto approfondire poi avevo capito che avevo un po il dono della parola un po se non cagacardo conoscete e ho fatto sempre il commerciale commerciale tecnico poi la vita diversamente va bene così vedremo cosa si farà in futuro e quindi i due capisaldi devono essere partite da un interesse leggete e trovate una forma artistica espressiva che vi corrisponda anche da adulti cioè vi piacciono i film guardate film vi piace la musica ascoltate la musica io ero un cane poi ho avuto la fortuna di conoscere persone che mi hanno introdotto a musiche un po più interessanti eccetera eccetera quindi questo direi che il percorso sano e l'ultima nota mettete in discussione e sempre sempre l'archetipo che la compagnia con cui state viaggiando io seguo la parabola del diecimo uomo rappresentata in world war z dove a fronte di nove persone che dicono tutta la stessa storia hanno deciso però all'inizio deve avere un decimo uomo che deve smontare la narrazione nel senso cristiano era l'avvocato di abulorum mi pare si chiamasse per le cause dei santi quindi siate sempre tanto servono persone che mettono in discussione la narrazione dominante anche nel gruppo cioè si va a vedere un film e si dice sì ma e ma non è per essere cagacazzo per essere ma poi ma allora questo è interessante come domanda perché magari è una caratteristica mia del del carattere del temperamento mia mamma come tutti i mattonisti ecco esatto questa però è interessante questa è una cosa interessante perché io non ho conosciuto un mattonista con il quale confrontandomi non ho conosciuto però quella è una di parola quindi già siamo già già poverina un po così per dire però siamo già diversi ontologicamente biologicamente quindi i mattonisti hanno questa caratteristica di essere non sempre d'accordo cioè magari sei sul 99 ma c'è quell'uno che ti differenza che arricchisce il dialogo sto zitto che poi hai finito così proprio hai dato lo stacco finale che poi è il fatto che in un gruppo di basti ancontrari come magari può essere i mattonisti cioè io penso che sia la cosa più bella che possa esserci perché chiunque impara da quell'altro magari qualcuno che era contrario o non la vedeva in un determinato modo dopo essersi confrontato con altre dieci persone che in quell'ambito la vedevano in un tot modo magari lui cambia apre la sua visione e magari però può portare gli altri a vederla nella sua è questo io penso che per quanto possa possiamo essere uniti tutti in una visione unica e rettilinea veniamo tutti da con da background diversi abbiamo tutti delle storie diverse e tutti abbiamo un pensiero che è diverso io non sono riuscito a incontrare un mattonista con il quale io veramente possa dire questa è veramente la pensa come me come magari no non l'ho mai pensato di nessuno quindi no beh fa piacere però fa piacere quindi giusto così bene e invece volevo fare una una domanda un po più tecnica infatti mi mi riferisco direttamente a sinesius e a filorenzo che saluto quando bisogna studiare qualcosa non più per piacere ma perché è giusto per il mio percorso che sto intraprendendo anche un percorso d'autodidatta nel senso ok io adesso sto leggendo magari faccio un esempio la storia romana all'interno della storia romana ci sono dei poeti dei filosofi degli scrittori importanti quando magari la storia di quel filosofo la storia di quel soggetto storico è importante da approfondirla oppure magari è meglio tralasciarla perché comunque sia non è inerente al mio percorso però mi può piacere quindi lo faccio so spero che mi sia lasciato intendere lascio la parola uno di due e due vedete voi vado io perché guardo guardo filorenzo mi sembra che sia ancora ascoltato vai 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 sinesius vado io perché sono il peggiore esempio di tutti non ho nulla da insegnare su questo io ho fatto tanto vale che cominci con la mia storia personale come hanno fatto gli altri ho frequentato una nota università e collegio italiani che premiano si dice il merito e quindi che ti pagano per studiare non dirò quale ma si può capire facilmente e quindi ho studiato i cinque anni dell'università come fosse un lavoro otto ore al giorno ti svegli al mattino alle nove sei in biblioteca alle dodici e mezza stacchi mangi riprendi alle tredici e trenta alle sette e mezza stacchi mangi la sera è libera ciò significa che la sera facevo i cazzi miei finalmente scusa ma devo dire che questa roba mi colpisce tantissimo perché si capisce cosa vuol dire avere la cultura che tu hai ed è questa cosa che il lavoro uno studio è bellissima per cui ti ringrazio di questa cosa mi rimuto però grazie lo studio allora lo studio è un buon mestiere nel senso che lo studio per gli esami ok è scuola ancora quando studi per scrivere quando fai ricerca e lì si faceva ricerca anche a livello basso cioè proprio a livello di presentare un brano di un poeta davanti alla classe quindi mettersi da soli a capire da da dove prendere spunti per il commento per non dire cacate no per non sbagliare quindi ricerca può significare anche non per forza scoprire robe nuove ma anche fare il punto della situazione e trovare una maniera giusta per presentarle al pubblico da cui devi andare e io facevo per lo più questo a parte gli esami e questo è un mestiere è un mestiere perché devi imparare ci sono degli strumenti come come un accountant a excel o i programmi per fare la dichiarazione dei redditi così noi abbiamo la nephilo logique la real encyclopedia i nostri e ogni disciplina i suoi strumenti e si devono usare quelli come lo scienziato va in laboratorio noi andiamo in biblioteca e come lo scienziato ha alcuni reagenti sia altri no alcuni scaffali si alcuni no quindi ci sono degli strumenti quindi c'è una certa disciplina c'è una deontologia anche se se vi iscrivete a un corso di dottorato almeno in germania credo anche in italia vi faranno firmare una deontologia in cui dite che rispetterete i parametri della della ricerca proprio allo stesso modo in cui un medico giura fa il giuramento di ipocrate che poi lo rispetti è tutto un altro paio di maniche però l'idea del mestiere della professione è che tu professi una certa una certa cosa e questo professare anche una una condizione di giuramento e poi la scrittura c'è un tipo di scrittura che va bene un tipo di scrittura che non va bene c'è un modo di fare le cose pratico ci sono delle cose che sai fare meglio delle cose che non sai fare tanto bene è quello a tutti gli effetti un mestiere e quindi non posso dare consigli come quelli che andato efesto e tiziana che sono dei romantici mentre invece io sono un timbra cartellino dello studio ecco non faccio un'altra cosa la sera mi guardavo i film all'università ho scoperto i film prima quando ero al liceo suonavo la chitarra e avevo un paio di band e e adesso un po guardo film e un po adesso faccio il dottorato un po guardo film un po suono altri strumenti insomma quindi la mia parte di autodidattismo è tutta dedicata ad altro rispetto ai libri e fra l'altro il problema del mestiere è che il mestiere spesso ti mette il verme nella testa e poi dopo inizi a trattare tutto come mestiere quindi diciamo anche leggere i libri non è più così facile come quando ero bambino che mi mettevo mi ricordo in terza media che ho letto tutto il de bello gallico così perché parlava di cesare di guerra e mi piaceva l'idea e adesso non ce la faccio cioè ho provato a leggere un po di sto leggendo sto cercando di leggere in autonomia un po di poemi epici e se non ho la cartina con i nomi dei posti per cercare di capire che cosa sta succedendo se non leggo l'introduzione in cui mi dà un po di contesto storico sociale di chi canta per quale pubblico non ci riesco perché il mestiere inevitabilmente come che si chiama la deformazione professionale ecco quella non non te la togli di dosso e quindi appunto il mio esempio non è il migliore come si capisce adesso vengo l'ho presa dalla quercia e dalla pietra come dice ettore però come si capisce che una cosa è necessaria di solito sincronicity cioè se stai leggendo un paio tre o quattro libri o saggi non so sulla storia romana inizia a leggere un bel libro tipo la guida alla storia romana di clemente che è un ottimo libro e vedi citati non so spesso ritorna un nome o una fonte poi dopo hai finito quel libro e te ne guardi un altro e vedi che lo ritrovi e inizi a vederlo in giro quando senti parlare di storia romana così di solito quello il segnale che è ora di leggerlo perché se lo senti tante volte vuol dire che probabilmente importante sembra banale ma la gente non ci fa mai caso le cose che si ripetono sono spesso le più interessanti e quindi se lo senti nominato tante volte vale la pena leggerlo probabilmente quindi anche se magari io vado avanti con il percorso di studio magari ho intrapreso sto sto leggendo un libro di storia facciamo sempre l'esempio di storia romana magari io sono arrivato a due trecento anni dopo però mi viene ricitato un'altra volta quel determinato personaggio che ormai è morto defunto anche se è passato il tempo quindi mi trovo in un momento successivo alla scrittura di quel libro di quel lassaggio di quel personaggio da approfondire anacronisticamente io comunque torno indietro per approfondirlo non è un problema quindi se ci sono degli sbalzi temporali diciamo e scusate mi è venuta in mente una cosa perché questa abbastanza senza rete la nostra scuola quella cosa che ha detto che del segno che dici sento parlare di un libro ne sento parlare di un'altra volta vale anche per le esperienze che dico il signore ti chiama a fare perché qua racconto un piccolo episodio mio a un certo punto della vita per motivi personalissimi decido di fare una vacanza da solo e inizio a cercare io ero un giovane ai tanti simpavo e dico vabbè vado a farmi la crociera bene inizio a cercare la crociera trovo tutto avevo già quasi deciso stavo già anche per mettere il il primo bonifico no l'anticipo mi nasce un pensiero in testa ma così dal dal niente però volevo stare bene ecco diciamo volevo stare bene in vacanza volevo fare una bella vacanza mi nasce in testa il cammino di santiago ma così perché ne avevo parlato con una persona precedentemente nella vita che mi aveva fatto una capocchia tanto nel giro di un mese io poi divento un fanatico quando purtroppo il difetto che mi fisso sulle cose sapevo tutto avevo visto tutte le vie tutte le cose sono andato a fare il cammino di santiago che poi anni dopo mi è servito per un'altra roba nella vita serio l'hai fatto sì certo quanto ci hai messo quant'era la la ritmica lavoravo per cui ho dovuto prendere due settimane ho fatto sono partito da ponferrado camminato per 250 chilometri quindi non può se va bene solo sono non come le fighette che ne fanno cento ma nemmeno come i cerdoni 805 serve e servono 40 giorni ragazzi adesso che cacciato il discorso voglio solo fare un po di propaganda per il nostro territorio anche se è una merda lo stato italiano però abbiamo una marea di percorsi di pellegrinaggi all'interno del dell'italia a partire dalla famosissima via francigina che è immensa come anche solo la macerata loreto la macerata loreto la loreto assisi la la via di francesco da assisi appoggio bussone o da assisi da greggio assisi oppure il cammino di san benedetto da norcia italia cost to cost da ancona all'argentario ma ce ne sono una marea ma poi anche al nord e al sud quindi non per forza dobbiamo fare le cose quelle un po più mainstream che ce l'abbiamo anche dentro casa e che sono forse anche più difficili perché le fai in mezzo agli appennini passi in in percorsi che sono davvero armi ecco era solo per fare un piccolo escluso continuo l'intervento dicendo che anche nella vita accadono incontri cioè accade un incontro che ti fa squillare qualcosa tu lo lasci lì da parte ecco al secondo massimo terzo invito ragazzi se segue quella roba lì non perdete tempo c'è c'è del bene lì non so cosa ma può valere per un libro un rapporto qualcosa che ti viene di fare che può essere di artigianato eccetera scusa tinesio spesso no è una bellissima un bellissimo appunto quello che hai fatto perché spesso ci ci dimentichiamo delle cose che che viviamo e di ciò che ci accade quando invece dovremmo solamente essere più aperti e con gli occhi vigili e le orecchie attente a quello che ci accade che che ci circonda perché veramente forse non saremmo così infelici come come in questi giorni se avessimo ascoltato sin dall'inizio davvero tutto ciò che che la vita ci proponeva io di questo ne sono ne sono convinto perché ne sono ne sono vittima io per quanto io possa essere giovane anch'io ho subito le mie i miei sbagli i miei errori ma appunto perché ho deciso di seguire determinati percorsi che invece erano quelli che avrei dovuto evitare e sono rimasto chi ha occhi per sé sì chi ha occhi per sentire chi per vedere vede chi ha orecchie per sentire ascolti e questo non l'ho fatto perciò zio entreri no zio entreri subito ti fa toc toc sul sederino mi permetto perché perché tu non sai diceva benedetto che il peccato il perdere tempo il distrarsi alla via a santità ma che cacchione sai di tutte le distrazioni che hai avuto se non sono servite a essere oggi qua con la coscienza di un uomo e anche questo incipit sull'infelicità ma mea ultimamente nell'ultimo mese io sono sempre in mente questa roba che il pezzo del discorso la montagna che mi hanno fatto sentire degli amici che di che ogni giorno ha la sua dose la sua pena la sua pena basta basta bisogna avere un progetto nella vita cioè dire voglio fare questo quello e metto le condizioni per cercare di ottenerli ma pensare dire essere infelice guarda guarda zio voglio ti voglio fermare un attimo perché ho visto anche che che è presente e perciò lo saluto e lo ringrazio per questo tweet che tweet questa risposta che scrisse scrisse chiamatemi ismaele che saluto che che io ho fatto uno screen con il mio telefono che scrisse il 4 il 3 febbraio il giorno del mio compleanno poi dura parlavamo c'era anche filorenzo nella discussione e si parlava della provvidenza del non riusciamo ad avere un futuro noi giovani cose così e ismaele scrive i nostri nonni hanno concepito i nostri genitori durante la guerra la provvidenza esiste misuriamoci con l'oggi virgolette oggi e con l'eternità non con quegli intervalli di tempo che non hanno senso per me questo è stato davvero un tweet che ho fatto lo screen e me lo rileggo spesso perché davvero mi ha mi ha aperto sì mi ha aperto gli occhi e il cuore soprattutto perché troppo spesso ci veramente ci imbaghiamo di di determinate cose che non hanno senso proprio non non rientrano in quel qualcosa che tu dici sì questo davvero dovrebbe far parte della mia vita no vivi la tua giornata fai del bene crea qualcosa di concreto mettici tutto se stesso e fallo con il cuore e con ovviamente lo sguardo rivolto verso il dio io parlo da da cattolico e poi per quel che sarà domani domani lo vedrai preoccupati piuttosto di pensare all'eternità e io credo magari ismaele se poi vorrà aggiungere qualcosa mi correggerà con l'eternità si parla appunto dello spirito del fatto che bisogna preservare sempre l'anima a dispetto del del momento in cui si vive quindi tu vivi l'oggi e lo vivi con l'anima che ha uno sguardo verso l'eternità mentre il passato e il futuro prossimo lo lasciamo alle nostre spalle e al nostro essere che se ci arriverà lo affronterà in un momento successivo ecco quindi questo era il mio intervento che volevo fare perché hai cacciato appunto la bella perla del ogni giorno alla sua pena e mi è venuto istantaneamente questo questa risposta che ci diede in quel bel dibattito quindi ti ringrazio ismaele se volessi intervenire possiamo sentire forse sia voglia di parlare anche filorenzo sulla questione visto che l'avevamo un po mai passato perché era e non era tra i partecipanti o sbaglio sì sono arrivato in ritardo scusate buonasera a tutti ci mancherebbe ciao ciao parentesi molto profonda tornare alle esperienze personali è un po un po modificante però proprio per il dibattito però volevo rispondere anch'io un po la sollecitazione di rettore ma anche qui devo per forza di cose tornare alle esperienze personali perché poi sono quelle che che dicono di più in qualche modo io ho capito che quello che era diventato un hobby doveva non essere soltanto una passione così di contorno ma dovevo dedicarmici quando per altre scelte di percorsi diciamo scelte sbagliate nel senso ho preso altre altre strade vivevo quello studio che era uno studio collaterale non centrale nella mia giornata come una liberazione ma non come una liberazione com'è comunque leggere un libro ma proprio l'applicazione cioè io almeno ho questo sintomo vivo certi impegni con una scissione interna cioè metto molte energie mi dedico molto a certe cose e altre come se la testa vivesse un rifiuto come se imponesse la distrazione ecco quando arriva il momento che la testa impone la distrazione però allo stesso tempo sa imporre una forte concentrazione su altre cose magari questo può dire tanto sulle proprie scelte però io lo dico sulla scorta di un mio momento di vita dove ho un iniziale percorso di studi poi ne preferi un altro e questo cambiamento poi ha segnato tutto mio percorso successivo quindi io più che dare dettami generali su questa domanda a questa domanda risponderei così con questa mia esperienza dove ho sentito tantissimo proprio il richiamo di di qualcos'altro e lo vivevo come una liberazione rispetto a quello che facevo tutta la giornata e che tra l'altro mi aveva così c'era così inadatto a me che poi presciugava anche le energie che dedicavo ad altro quindi era una sensazione generale poi voglio dire la partecipazione deve essere una partecipazione totale di se stessi alle cose per capire davvero come si sta in quelle cose quindi sia nel bene che nel male poi mi ritrovo molto in quello che dicevano sia prof. Sinesio che prof. Entreri perché per me la ricerca, lo studio è stata spesso questa ricerca di tracce che venivano composti anche al di là della mia proprio ricerca intenzionale tante volte nel seguire il riferimento da un libro all'altro arrivavo a trovare qualcosa che era decisiva per quello qui stavo lavorando ma qui non pensavo di arrivare cioè non era un libro in cui consideravo magari trovare quel passaggio specifico decisivo per un'interpretazione, per un cambiamento nella ricerca quindi anche io consiglio tantissimo di seguire le tracce che vengono e anche saper equilibrare l'intenzionalità che vi si mette in quello che si cerca con l'abbandono alle cose che vengono un po' comporsi da sé perché a furia di cercare 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 poi ci si accorge che come se le cose si montassero davanti agli occhi non dico quasi per una loro forza intrinseca però per un richiamo che poi le idee le varie opere umane nelle varie discipline hanno questa forza di richiamarsi tra loro quindi poi vale anche per le esperienze personali come dice Entreri che bisogna a certi richiami bisogna rispondere e ovviamente per chi ha fede sicuramente una certa dose di abbandono alla provvidenza è decisiva cioè io almeno sempre per riportare una mia sensibilità personale io spesso nel pregare chiedo a Dio di operare in me nonostante me e lo ringrazio di quando opera in me nonostante me perché sento più tante volte la mia mente come ostacolo rispetto alle cose a cui mi dedico di quanto lo siano le cose a cui mi dedico un ostacolo per il pensare per cercare per trovare il senso di quello che faccio che sono e cose così quindi consiglio di trovare un certo equilibrio tra l'intenzione la presenza attiva in quello che si fa e una certa dose di abbandono sia alle idee sia all'arte alla musica alle cose a cui ci si dedica quindi sia a queste cose che sono più grandi di noi in cui ci affacciamo sia poi per chi ha fede o insomma per chi ha una sensibilità di questo tipo poi a Dio perché insomma nella provvidenza sa disporre i nostri sentieri meglio di quanto possiamo capirlo noi e guarda senza che esprima il mio parere riguardo questo intervento perché sono completamente d'accordo vorrei sentire Ismaele che appunto ha partecipato al nostro dibattito di quella volta quindi buonasera Ismaele che ci vuoi dire riguardo a ciò beh vi saluto io sono entrato per caso Ismaele che bello sentirti ciao ho un bel ricordo del nostro incontro fa piacere anche a me ah guarda ho preso freddo e l'ho dovuto prendere mesi dopo il covid non mi hai fatto neanche ci abbiamo provato quella sera ma ci siamo poi riusciti dai scusatemi momento entreri ecco aveva alzato la mano un altro partecipante ma visto che mi hai tirato in ballo ho attivato il microfono ma sono capitato qui per caso sto cominciando a capire di che cosa state parlando vi ascolto volentieri vi faccio un saluto molti di voi li ho già letti ho letto le cose che scrivete ho interagito con alcuni di voi mi fa piacere che ci ritrovi soprattutto al termine di una giornata come questa e vi ascolto volentieri poi magari intervengo dopo semmai grazie per lo spazio grazie a te Ismaele vai Efesto dici tutto no beh io niente non volevo interrompere la questione ma visto che adesso ho spazio dico una piccola cosina che si unisce a quello che è stato già detto da Filorenzo e da entreri da tutti praticamente che sostanzialmente lo studio noi viviamo le materie come materie divise cioè storia, filosofia, geografia eccetera ma in realtà il mondo non è fatto di divisioni sappiamo benissimo che tutte le divisioni che siano di genere letterario di genere di qualsiasi genere e non entro nei dettagli sono solo convenzioni umane l'esistenza nel suo totale non è certamente divisibile quindi perché ci troviamo spesso appunto nello studio a intersecarsi tra una materia e l'altra perché noi vogliamo dividerle per ordine ma alla fine sono così non hanno una linearità non c'è una linea dritta in cui dici la scoperta dell'America 1492 dopo è successo questo studiare la storia in questa maniera e purtroppo devo dire che per quello che mi riguarda spesso l'ho dovuta studiare a scuola in questa maniera è la cosa più sbagliata che si possa fare la scuola si interseca con tutto quanto il resto e la puoi capire anche molto meglio se capisci tutto il resto per questo poi che al liceo storia e filosofia sono insieme storia e filosofia perché? perché filosofia non è altro che la storia del pensiero fare filosofia è un conto studiare filosofia è un'altra cosa se qualcuno di voi ha visto a proposito che entrerì citava film un film di Luciano di Crescenzo 32 dicembre è un film in cui lui fa una riflessione a un certo punto lui per chi non lo conosce era un ingegnere ma appassionato di filosofia ha scritto tantissimo di filosofia e di storie della filosofia e nei suoi film ha sempre cercato di metterci una buona nota filosofica in maniera molto semplice e fruibile a più o meno tutto il pubblico e mi ricordo appunto che fece questo sketch possiamo chiamarlo così in cui parlava del tempo allora io il tempo come l'esistenza e come tutte queste cose non sono scendibili cioè è tutta una cosa unica tempo, esistenza, vita, storia eccetera e lui citava il tempo appunto perché non ricordo bene esattamente come andava la questione ma gli parlavano di vivere la vita di allungare la vita di vivere il più a lungo possibile lui dice no non bisogna vivere il più a lungo possibile la vita non è una linea retta la vita deve essere allargata bisogna fare degli alti e dei bassi in questa linea in modo che se anche noi viviamo sempre quegli 80 anni o 90 anni ne avremmo vissuti 120, 130 perché questa linea andando in su e in giù ovviamente diventa molto più lunga adesso è brutto spiegato così perché andrebbe visto graficamente se avete tempo cercatevelo su youtube è uno scherzo abbastanza famoso e si trova facilmente ma questo per dire che come il tempo la vita l'esistenza stessa tutte le cose devono essere collegate in qualche maniera non devono essere sono collegate se riuscissimo noi della scuola a donare diciamo a dare a chi ci segue questo senso non di linearità ma di interdisciplinarità per me è anche più facile forse capire un argomento se si toccano tutte queste cose chiaramente è più difficile perché devi avere una conoscenza molto più vasta rispetto alla conoscenza della tua materia e fine purtroppo la scuola italiana meno per quello che ho visto io è molto indiristrata cioè chi sa di storia Massimo sa di filosofia ma del resto sa molto poco perché ha dovuto specializzarsi da una parte e quindi tutto il resto l'ha tralasciato invece tutte le cose ma nella storia contemporanea oserei dire anche la musica il cinema sono tutte quante connesse e sono tutte parte integrante per capire quello che è successo per capire un pensiero per capire una filosofia un'arte queste cose insomma spero di non aver fatto una super cattola io sono d'accordo su questo perché avendo finito la scuola pochi anni fa so la difficoltà che si ha nel no la difficoltà più che altro l'impegno che un professore mette nel voler separare sempre un determinato argomento rispetto ad un altro come un determinato contesto storico piuttosto che un altro e lo fa appunto attraverso date specifiche usi e costumi specifici determinate situazioni culturali e è una cosa che io non so se lo fanno per convenzione appunto per far sì che loro il loro lavoro lo hanno fatto e per il resto se ne lavano le mani oppure perché appunto non c'è proprio una una passione nell'insegnare la no la verità però un minimo di linearità in linearità in quello che che si dovrebbe studiare a scuola in un programma scolastico e quindi io credo che veramente tra le tante cose che questo stato deve bruciare la scuola tutta l'istituzione la la didattica è completamente da risettare a partire da dalle scuole dell'obbligo perché sono sono abberranti davvero inutili inutili che se già il ragazzo ha poca voglia di andare a scuola gliela levi definitivamente mettendo piede all'interno di una classe di una scuola medio superiore che sia ecco mi sento molto preso in causa perché io ho fatto veramente tanti anni di scuola come un discolo con ben poca voglia ma perché poca voglia perché comunque appunto come un po' stavi dicendo tu non viene stimolata minimamente io sono una persona che quando ho finito le superiori ero schifato completamente dalla scuola non ne volevo più mezza non ne sapevo cioè non avevo assolutamente nessuna voglia di proseguire gli studi volevo solo andare a lavorare non pensare più a niente l'università come ho detto prima mi ha cambiato completamente la prospettiva perché già l'università è un mondo molto diverso e ti invogliano cioè loro non ti invogliano però se un minimo hai piacere di quello che stai studiando ti invogli da solo mentre le superiori cioè le superiori è una cosa che mi raccontava sempre mio padre e me lo dice ancora spesso è guarda che un uomo medievale non è che quando non so nel 1492 ha detto boh da oggi è finita il medioevo da domani comincia l'età moderna non ci sono queste separazioni sono chiaramente separazioni che sono servite a noi per studiarle però non si può tracciare delle linee così nette come stavi dicendo tu studiare un argomento con un anno con un luogo eccetera eccetera senza il contesto non ha alcun senso così come non ha alcun senso oggi non so studiare per dire Guglielmo da Ockham cioè se non studi tutto quello che c'era intorno perché è arrivato a quello del rasoio sì ma per dirne uno il primo che mi è venuto in mente proprio parlando appunto del 1200 1300 non mi ricordo neanche più in che anni era pensa vabbè l'ho studiato poco ma per dire chiunque anche Kant cioè perché Kant ha importanza ok grande pensatore ok ha costruito un sistema che a suo modo era perfetto a suo modo non per me comunque Kant ha senso se è studiato in quel contesto cioè se di Kant studi solo la sua dottrina tra virgolette non ha nessun senso devi studiare il periodo storico devi studiare le arti devi studiare la musica di quegli anni devi studiare il pensiero la guerra è tutto a quel punto riuscirei a capire Kant io sono sempre stato un cane in storia alle superiori ma perché era appunto spiegata così cioè non puoi spiegare il periodo storico come se fosse una lista della spesa non è una lista della spesa la vita è una lista della spesa non può ci sono tante persone che in realtà la vita la prendono come una lista della spesa devo far questo devo laurearmi devo trovare un partner devo sposarmi devo far figli devo prendere una casa tutte queste cose qua ma la vita non è una lista della spesa non lo è neanche lo studio se studi a modo di lista della spesa non avrai mai piacere di farlo io anch'io come ha detto prima Tiziana mi sto mi sto facendo una cultura su tanti argomenti che non ho potuto studiare o non ho avuto tempo o non sapevo nemmeno dell'esistenza grazie a questa scuola e non è per fare pubblicità alla scuola ma è semplicemente perché a parte che ovviamente essendo che i video passano tutti da me mi incuriosiscono anche quando li vedo che li sto montando al volo poi quando ho un po' di tempo tipo oggi mi sono messo a guardarmi due video di Tiziana e il video che è uscito su Salo Salo non mi ricordo come si pronuncia comunque quello sui pensatori russi perdonatemi e devo dire che mi hanno stupito tutte cose che magari non sapevo o sapevo in parte e questo è bello non hanno i nostri video forse una connotazione così lineare così schematica come possono avere gli insegnamenti scolastici ma proprio per questo forse hanno una forza in più poi magari i puristi dello studio mi diranno che non è vero che è sbagliato io sono d'accordo con te però a questo punto perché io sono proprio nel nel pieno ormonale dello studio ecco personale come hobby e mi chiedevo è logico studiare cioè studiare leggere libri magari approfondire cose che da un argomento da un contesto storico all'altro in cui ci passano davvero mille anni oppure che si parla di fantasy piuttosto che di religione eccetera se è una domanda aperta a tutti cioè è possibile fare uno studio così senza un rigore uno schema logico lo schema c'è nel senso adesso finisco io e poi dopo lascio parlare gli altri lo schema c'è e lo puoi trovare tu nel senso anziché vederlo come uno studio orizzontale vedilo come uno studio verticale non lo so ti stai appassionando dico una cosa stupida e rilevante magari col mio nome alla lavorazione del ferro il cosa ha portato la lavorazione del ferro come è stata fatta attraverso gli anni quindi tu non stai analizzando tutta quanta la storia insieme perché è impossibile stai analizzando un determinato argomento e quell'argomento lì ti porta a fare dei salti magari temporali ti porta a fare anche dei salti spaziali perché comunque magari adesso era un po' stupido quello che ho detto del ferro però tanti argomenti magari prendono dall'Europa all'Asia anche magari alle Americhe quindi non è uno studio convenzionale ma secondo me può avere un senso tutto ciò e spesso magari ti aiutano anche supporti visivi come film e cose del genere se sono intelligenti come film vai Tiziana vai vai sono assolutamente con il testo in questo secondo me è possibile ci vuole ovviamente una mente molto molto elastica però è possibile anche procedere non per forza in ordine geografico o cronologico so che so perché l'hai scritto pubblicamente che stai leggendo Dostoevsky e non credo che tu abbia prima di affrontare Dostoevsky tu abbia pensato no adesso mi devo assolutamente prima leggere tutto quello che è stata la letteratura russa fino a Dostoevsky e poi forse dopo affronterò se non ricordo più forse le notti bianche stavi leggendo no forse l'eterno l'eterno marito l'eterno marito l'eterno marito hai detto bene perché io bene o male piano piano sto riuscendo a a creare il mio percorso di studio in base a quello che mi piace e che vorrei conoscere però al tempo stesso io questa amanda l'ho fatta anche a Filorenzo riguardo i filosofi medievali cioè io vorrei conoscere ad esempio in concreto il pensiero filosofico del cristiano però non posso esimermi dal conoscere quella che è stata un minimo la filosofia greca quindi la filosofia primordiale e quindi si apre un mondo nel senso che forse non riuscirei mai poi a arrivare ai filosofi cristiani se mi metto adesso da per me a studiare i filosofi greci questo era il senso è una vertigine che ho avvertito moltissimo anch'io in gioventù perché mi accorgevo ogni giorno di quanto era basta la mia ignoranza e ogni giorno di più dicevo ah caspita devo se voglio leggere questo libro però prima dovrei leggere anche questo hai capito hai capito e diventava una sorta di voragine in cui tu ti vedi sempre più piccolo e tu sembri annientato in realtà è anche positiva secondo me questa voragine perché uno ti fa capire appunto quanto è vasta la tua ignoranza la tua la nostra la mia la nostra ignoranza e già ti pone su un livello di umiltà che secondo me non guasta mai e poi ti fa capire che tutto comunque a un certo punto non non puoi tutto subito è impossibile quindi importante che inizi da qualche parte magari non avrai affrontato Dostoevsky conoscendo tutta la letteratura russa prima di Dostoevsky però sai che stai iniziando in un punto della letteratura russa e sai che prima c'è stato qualcos'altro e sicuramente magari andrai poi a leggertelo un giorno quel prima poi il dopo magari non adesso magari ci andrai tra dieci anni a leggerlo ma se l'opera o lo studio che hai fatto in quel momento ti ha davvero colpito non importa che passeranno anni non importa se passa tanto tempo io sto facendo sto scrivendo le lezioni di arte medievale adesso e sono più di vent'anni che io non non riaprivo quei libri più di 25 anni e se io ti dico che davvero non ho ricordo non ho quasi bisogno di riaprire i libri perché mi ricordo ancora perfettamente ma non perché sono un genio e perché semplicemente nel tempo si è sedimentato quindi non ti preoccupare di avvertire questa vertigine perché se adesso veramente se fra dieci anni studierai o avrai modo di leggere qualcosa della letteratura russa che viene prima dopo Dostoevsky apprezzerai di più il libro che hai letto anche retroattivamente sto apprezzando moltissimo le lezioni di greco di Sinesius che greco che io non ho mai potuto studiare perché non ho fatto il tassi ho fatto lo scientifico e adesso anche soltanto riuscire a capire o a leggere una frase in greco per me retroattivamente dà senso a moltissime parole che magari avevo incontrato nel mio percorso ma che non avevo colto appieno adesso retroattivamente riesco a dare il senso che meritano quindi non ti preoccupare troppo di andare in ordine cronologico geografico perché poi la mente la connessione la fa da sola anche in un altro momento questo è quello che succede a me il mio personale vissuto e spero non aver detto sciocchezze a me succede così le folgurazioni le connessioni mi avvengono a distanza anche di anni e anzi fa ancora più piacere di dire ah caspita ho capito ancora meglio un argomento che probabilmente a quell'epoca non avevo capito appieno ecco un altro consiglio che do è di rileggere libri a distanza in momenti diversi della vita lo stesso libro cambiano tantissimo cambiano tantissimo specialmente i libri che ho letto in gioventù adesso sto rileggendo Joyce in queste serate qua e Joyce che ho letto vent'anni non è Joyce che sto leggendo adesso a 46 è proprio un'altra roba ed è bellissimo ecco quindi proprio perché tutti i miei vent'anni di mezzo di vita hanno fatto sì che quelle parole che prima potevano avere un senso adesso ne hanno uno o un altro senso questo è anche un altro piccolo suggerimento che posso dare i piaceri della vecchiaia i consigli dell'aziatizio che è brutto scusate questo momento un momento anzianità io ti ringrazio per le bellissime parole cercherò di coltivarle di raccogliere i frutti perché davvero sono delle bellissime parole sentite grazie e Sinesus vai io faccio ancora un po' la parte del guastafeste ma prima volevo dire che quello che han detto è feste tiziana è comunque vero mi ha fatto venire in mente l'immagine del nodo di Gordio magari non tutti la conoscono anche se è molto famosa Alessandro che va in questo tempio in Asia a Gordio e in questi sacerdoti gli dicono chi riuscirà a sciogliere il nodo diventerà il padrone di tutta l'Asia il nodo era una corda legata tutta intorno all'albero di un carro e questa corda si diceva che non avesse capi i due capi finali da cui snodarla e allora Alessandro tira fuori la spada e taglia di netto la corda che cade giù ho sciolto il nodo e diventerò padrone dell'Asia è un po' questa è la cosa cioè la realtà come dice Efesto effettivamente è un po' una matassa senza capi senza capo né coda o almeno noi esseri umani difficilmente nell'arco della nostra vita troveremo il capo o la coda poi l'alfa e l'omega alla fine almeno per chi ci crede li vedremo però per ora no e però davanti alla matassa l'importante non è quale punto scegli per partire l'importante è iniziare e quindi dare quel colpo di spada che ti fa che ti fa partire poi da lì pian pianino si costruisce e questo vale soprattutto per l'autodidatta naturalmente che non ha una guida e qui vengo quello che voglio dire io un po' in controtendenza e qua è il mestierante dello studio quello che lo fa per mestiere che si unisce al cattolico e che dice occhio alla lettura sineglossa no a leggere le cose per sé direttamente senza nessuna mediazione perché sì è vero la data o la divisione in materie sono convenzionali ma quelle convenzioni sono lì perché tante persone prima di noi hanno studiato spesso persone molto più intelligenti di noi e le hanno messe è chiaro che quando avanzi ti rendi sempre conto che queste quali sono i motivi che stanno dietro la convenzione e quali i limiti della convenzione ma la convenzione è lo scaffolding è il come si dice è il ponteggio dell'edificio dello studio cioè all'inizio serve per tirar su l'edificio poi quando ci sono le pareti belle solide la puoi pure togliere e te ne ricorderai e la userai per costruire gli edifici degli altri se ti capiterà di insegnare quindi la convenzione il punto non è che la convenzione esaurisce il sapere la convenzione è lì per aiutare te che entri ad approcciarti al sapere e poi dopo col tempo vedrai perciò ovviamente questo è l'ideale scolastico cioè l'insegnante all'elementare ti insegna a imparare a memoria i nomi delle regioni con i capoluoghi i nomi degli stati con le capitali le bandiere queste cose qui perché quella è la massa dei dati senza lievito dentro e va bene e poi pian pianino il lievito aumenta e poi quando magari arrivi anche all'università nel percorso scolastico diciamo formalizzato istituzionalizzato allora lì vedi effettivamente che cosa sta dietro e già al liceo si dovrebbe iniziare a fare anche se magari non ha dosi da dinamite ecco perché sennò crolla tutto l'edificio però un pochino si può fare se tu non puoi farlo perché non stai facendo questo percorso direttamente perché stai studiando altro perché stai lavorando ci sono degli strumenti che ti aiutano che sostituiscono il maestro fisico ci sono manuali ci sono bibliografie se non hai potuto raccoglierle tu stesso ci sono amici spesso ho sentito sia Efesto che Tiziane neanche io posso dire che avere amici che fanno cose diverse ti permette di approcciarti a mondi diversi e magari leggere qualcosa di diverso e quindi bisogna un po' appunto tenere gli occhi aperti e accettare che all'inizio si sarà trattati un po' come bambini si dovranno prendere un po' le cose per fede perché te l'ha detto il manuale perché te l'ha detto il maestro che poi col tempo ci sarà tempo di mettere in discussione quindi questo volevo dire se mi permetti di aggiungere una cosa forse io un po' sono stato frainteso ma sono completamente d'accordo è vero che servono queste convenzioni questi dettami per inquadrare per avere le basi per uno studio per sapersi anche un minimo orientare perché ovviamente come ho detto prima e come hai detto anche tu è una matassa infinita la storia e lo studio in generale tuttavia quello che volevo intendere io è che non bisogna chiudersi solo su quelle vedo troppo spesso forse perché io ho fatto degli studi del cavolo bisogna dirlo ma ho visto tante volte davvero una chiusura totale su quello che riguarda una disciplina su quello che riguarda una data cosa che non ti permette per minimamente di creati un tuo pensiero critico di creati un contesto è chiaro che se tu mi studi un pensatore russo o uno scrittore senza sapere chi è la Russia o magari gli anni in cui è stato scritto che cosa era successo anche a grandi linee è molto difficile ma per questo ripeto le basi servono ma non è che come ho detto prima deve essere una cosa lineare cioè per quello che dicevo con 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 Farmattone della questione che tu puoi studiarti solamente un argomento chiaramente su quell'argomento devi tirarti le basi o da solo o ti devi far aiutare da qualcuno che magari ne sa di più per riuscire a capirlo meglio una cosa presa non ha nessun senso ma non ha neanche senso secondo me dall'altra parte perché si tende a ridurre forse tutte le materie alla matematica o alla scienza intendiamoci non è che adesso voglio fare un discorso contro la scienza o contro la matematica però per mio parere non solo mio potrei citarvi anche tanti pensatori sicuramente molto più intelligenti di me che l'hanno pensato la matematica è una convenzione per spiegare il mondo non è che il mondo si spiega con la matematica è che noi riusciamo a spiegarlo tramite la matematica o tramite la scienza ma comunque per spiegare un fatto ridurlo in termini fisici matematici o comunque di una formula si chiude per forza la visione laterale non so se mi se mi spiego quindi stessa cosa può avvenire nello studio di un'arte cioè se tu mi vieni a studiare ciò che ha fatto Giotto e non studi tutto il contesto ma me lo prendi come un dato come dicevo prima una lista della spesa ha fatto questo è nato il tal giorno ha studiato in queste cose ha iniziato a dipingere il tal giorno non ha senso in questa maniera il mondo non è matematica il mondo la matematica ci può aiutare a comprendere il mondo ma nel mondo non si spiega totalmente attraverso la matematica la scienza o comunque la chiusura anzi io sono forse un po' troppo critico per questo senso perché le stesse parole il linguaggio sono tutti simboli la matematica è un simbolo la fisica è un simbolo la scienza sono simboli di cose che forse non potremmo mai essere completamente non potremmo mai capire completamente queste cose quindi a noi servono i simboli perché noi siamo esseri finiti esseri ignoranti esseri molto limitati a noi servono i simboli quindi ci servono le convenzioni se noi fossimo onniscienti non avremmo bisogno e potremmo capire la storia e l'esistenza nel suo toto senza nessun bisogno di ridurla a cose più semplici ma ovviamente come ho detto noi siamo esseri finiti e la cosa influenza per forza il nostro modo di studiare sì assolutamente l'importante è che è come il sabato non è l'uomo per il sabato ma il sabato per l'uomo non è lo studio per la convenzione ma è la convenzione che aiuta lo studio quindi si manuali convenzioni libri che aiutino a orientarsi anche generali anche stupidotti in cui ci sono i dati bruti non bisogna venerarli sono un inizio ma sono ma aiutano peraltro è per quello che dicevo un po' di giorni fa sul fatto che l'università ha per le materie umanistiche un sistema di incentivi del tutto spanato perché si va a prediligere lavoro di scavo e ricerca poi sulla sua validità ci sarebbe molto da discutere ma è un altro argomento a scapito invece della produzione di cui ci sarebbe bisogno di tutta una serie di sussidi anche per chi vuole avvicinarsi da fuori dal mondo della torre d'avorio dell'università o chi proprio per i cavoli suoi liberamente decide oh voglio impararmi l'antico norreno e leggere l'edda in poesia come faccio in italiano se non ho manuali contestualizzazioni introduzioni grammatiche stupide non accademiche ma fatte bene chiare eh non si investe su questo invece secondo me ci sarebbe da investirci o comunque da farci un pensiero ecco sì infatti questo sono completamente d'accordo tuttavia appunto e qui concludo perché se no mi dilungo troppo mi è venuto un parallelismo un parallelismo per descrivere meglio quello che intendevo prima io ho conosciuto tante persone essendo io musicista tra virgolette da quando praticamente sono nato ho iniziato a suonare a tre anni ho conosciuto tante persone che mi dicevano dicevano con i miei genitori o con me iscriviti all'accademia iscriviti al conservatorio però da una parte sì mi avrebbe fatto bene avrei imparato cose in più avrei potuto affinare le mie tecniche dall'altra però una cosa che ho visto è che queste persone che si sono fatte cinque dieci quindici anni di conservatorio hanno una tecnica pazzesca sanno tantissimo ma hanno perso completamente la fantasia e la creatività questo purtroppo è parallelamente lo studio quando arriva a essere troppo inquadrato troppo studiato troppe teorie e non spazio elasticità mentale per districarsi nelle varie discipline eccetera può portare a un po' la chiusura cerebrale secondo me nella musica sono sicuro che c'è poi magari non è una regola per tutti chiaramente ci sono anche ottimi musicisti che hanno fatto quindici anni di conservatorio o più e hanno una creatività pazzesca però spesso tutta questa studio tutta questa incapsulare le proprie passioni dentro a delle regole predefinite va un po' a uccidere quello che è la creatività forse sono uscito un po' di tema scusate oddio ho fatto qualche danno no 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 io pensavo avevo lasciato lo spazio per Sinesis per ribattere invece no 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 io lui ha ragione nel senso poi c'è una allora bisogna stare attenti a ad essere a non eccedere in nessuna in nessuna direzione c'è una buona dose di individualità qui cioè ogni singolo poi funziona a modo suo e ci sono dei grandi nella storia la storia è piena di geni autodidatti e di eruditi che non hanno concluso niente la storia è piena diciamo che però statisticamente un aiutino può far comodo sta anche molto all'autoesame ok sto facendo giri a vuoto sto capendo quel che leggo oppure no se non sto capendo quel che leggo o se ho dei dubbi è chiaro che ho bisogno di un aiuto quindi c'è un po' questa cosa qui bisogna essere autodidatti ma con un attimo di attenzione a se stessi e quindi appunto dice il problema è sempre questo troverete sempre quello che ce l'ha fatta a scapito di tutto il problema però è sul grosso numero nell'ordinarietà dei tutti i giorni come si fanno a far girare le cose è la stessa cosa per la scuola è vero molti professori si limitano a ripetere la pappardella però alla fine è un po' inevitabile cioè una volta che un qualsiasi movimento culturale si istituzionalizza perde molto non tutto rimane sempre un po' ma perde molto della parte carismatica della parte eccezionale e cerca di trovare delle sue routine per mantenere vivo quello che ha e quello fa parte un po' dell'essere umano che purtroppo è miserevole e quindi anche il fuoco che aveva all'inizio inevitabilmente non è si spegne oppure diventa un po' più debole allora ci sono dei suoi giù ci sono delle varietà ci sono così e quindi la disciplina e il metodo per quanto spesso possono chiudere per la gran parte delle persone servono poi c'è anche una curva cioè quando non sai niente non capisci niente poi inizi a capire qualcosa e quindi ti esalti e inizi a fare ipotesi ed è una fase molto bella perché è creativa perché la tua mente va da tutte le parti e così via poi se continui oltre questa fase ricevi una sonora batosta di solito perché capisci che molto di quello che avevi pensato era naif era abbastanza sfrettato e così via scopri che ci sono molti dubbi molte difficoltà e così via studi ancora e poi idealmente si dice io non l'ho ancora visto che dopo un po' che hai studiato tanto diventi così padrone dell'argomento che torna anche quell'entusiasmo e quindi poi dopo i grandissimi della storia se poi andate a vedere le biografie anche quelli autodidatti autodidatta sì ma lo scrittore scriveva 12 ore al giorno autodidatta sì ma il pianista suonava 12 ore al giorno quindi c'è una curva oltre la quale poi tu sei padrone un po' di quello che hai imparato e puoi iniziare ad aggiungere del tuo e lì si vede se hai l'apertura mentale o no poi non tutti ce l'hanno cioè si può anche vivere incamerando imparando per la propria vita senza per forza diventare Beethoven ecco bene ragazzi vorrei contribuire ah scusa scusa rettore no 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 io era per non lasciare il momento morto come prima era un pensiero che è venuto in mente adesso mentre parlavano Sinesius e The Fest ed è un film che avete visto sicuramente tutti The Poet Society è l'attimo fuggente quando inizia il professor a leggere la prima pagina dell'antologia del tipo di poesia e poi gliela fa strappare perché perché su quella pagina il il saggista stava cercando di misurare la bontà di una poesia secondo due parametri matematici se non ricordo esattamente e dice ok strappate la pagina perché perché questa questa introduzione non può applicarsi alla poesia la poesia non si può sul lato delle X non so la 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 bellezza della composizione sul lato sull'asse delle Y mettete questa cosa l'area che viene fuori è quanto è buona questa poesia questa gliela fa strappare questo è l'aneddoto e io sono rimasta molto colpita da ragazzina da questa da questa scena perché mi ha destituito il il manuale che è un po' quello che diceva Sinesio cioè io avevo totale fiducia nel manuale se manuale mi dice che Pascoli va letto in questo modo e Kitz va letto in quest'altro è perché va fatto così quella scena mi destabilise e dice allora forse non non tutte le antologie non tutti non tutti il manuale scolastico mi stanno dicendo come leggere correttamente un testo e il dubbio che fa sempre bene io dico nella vita teniamocelo teniamoci il dubbio che comunque il manuale potrebbe anche non essere la chiave di lettura giusta secondo me potrebbe funzionare potrebbe essere la via di mezzo tra i due approcci sapere che esiste la guida e anche collocarla storicamente faccio un altro esempio velocissimo ho preso per fare le lezioni di storia dell'arte ho provato a vedere che cosa viene insegnato di storia dell'arte nei licei al momento ho comprato un manuale da liceo di storia dell'arte e ho visto che sostanzialmente la lista della spesa esattamente come l'avevo studiata io 30 anni fa non è cambiato assolutamente niente proprio la lista della spesa precisa e anche questo fa sì che dico ok allora se la imparano ancora così la storia dell'arte devo dare un taglio diverso perché altrimenti ripeterei un manuale scolastico che tutti potrebbero prendere e leggere in autonomia da soli e non aggiungerei niente di nuovo questo fa anche capire che il manuale l'antologia l'estrazione oppure chi ti dà il contesto dallo strumento va sia storicizzato secondo me quindi quando è stato scritto quel commento al testo perché anche quello ha senso è stato scritto in un determinato periodo sicuramente è influenzato dal pensiero di quel periodo quindi se è molto antico se è un manuale dell'ottocento è ovviamente diverso da quello che potremmo scrivere oggi si spera quanto meno e poi seconda cosa è dubitare comunque di quello che c'è scritto specialmente se tratta di materie che non sono tecniche ma sono materie umanistiche io lancio un bombone rispetto a quello che ha detto Tizzi e devo dire mi dispiace ragazzi creerò degli spasmi a chi mi sta ascoltando perché l'attimo fuggente è il film più obbrobligoso su cosa sia un insegnante ci sono miliardi di motivi ce n'è solo uno alla fine lui spoiler muore è un professore che induce al suicidio un ragazzo perché non dà una lettura della realtà di sacrificio o di cose è un maledetto mi dispiace lo devo dire io non guardate e non consigliate a nessuno di vedere quel film è merda scusa e boh mi taccio però che sia messo agli atti che entra e non consiglierà mai di vedere l'attimo fuggente nessuna pillola sull'attimo fuggente quindi no la prossima pillola sarà su uno dei pochi film che mi ha fatto piangere come un bambino alla fine il bambino col pigiama righe scommetto no credo che qui dentro l'abbiano visto in tre persone forse ora ci devi dire che film è va bene dai spoiler perché così mi impegno dai su un po' di hype si chiama still life no non l'ho visto va bene ragazzi io direi che sullo spoiler mi sa che è saltato è saltato è stata una bellissima serata sullo spoiler di entreri ci possiamo salutare io sono contento di avervi ritrovati dopo un paio di settimane di pausa e niente quindi in questi giorni lavoreremo per la scuola continueremo a pubblicare e tra due settimane ci rivediamo per il dopo scuola e sceglieremo un bel un altro tema si è festo di tutto volevo solo concludere aggiungendo una cosa perché mi è venuto in mente che appunto FDN aveva pubblicato un video su storia sulla scuola mattonista proprio riguardo di come si studia la storia e come si e della imparzialità di cui parlava anche Tiziana cioè comunque è una scelta pubblicare un manuale oltre al discorso che dicevo prima della lista della spesa è anche una scelta bisogna sempre fare delle cernite e chiaramente queste cernite sono dovute anche al proprio pensiero cioè è inutile non esiste una storia imparziale non esiste un manuale completamente imparziale niente poi chiudo qua perché è un argomento molto vasto anche questo e per quanto riguarda Entreri pensavo che tirassi fuori Va e Vedi di film chissà se tirerai mai fuori una pillola su quello se non l'hai visto guardalo sì Sinesius niente avevo un breve testo se volete concludere con una breve lettura e commento posso vai mi piace mi piacciono queste volentieri volentieri in quest'ora vai allora leggo l'inizio di un di un paragrafo dell'orazione ai giovani sulla utilità della letteratura classica di San Basilio di Cesarea un padre della chiesa del quarto secolo e in quell'epoca diciamo la domanda che si ponevano i cristiani è che cosa ce ne facciamo della letteratura greca o latina perché ovviamente questi qui parlano di dei di ammazzamenti di guerre cosa facciamo la leggiamo o non la leggiamo e Basilio cerca un po' per i ragazzi di buona famiglia dell'epoca che potevano permettersi di studiare e erano al contempo figli di genitori cristiani di fare il punto della situazione per giustificare il sistema scolastico dell'epoca e dire ok andateci a scuola anche se vi fanno leggere Omero con gli dei e gli ammazzamenti e allora in questo brano diciamo racchiude un po' tutto il suo pensiero sulla questione lo leggo in greco faccio una breve traduzione è un brano abbastanza corto e poi vi lascio con una provocazione dice al oper exarges elegon palingar e stautone pa niomen upanta effexes paradicteone min al os agresima caigar aiscron ton mensition tabla beradio ceistai ton demathematon hatem sucenemon trefei medena logon ecein al osper ceimarrun parasurontas apanto prostucion emballestai il brano lo trovate sul mio profilo insomma l'ho twittato qualche momento fa e potete leggerlo in greco e la traduzione è ma torniamo di nuovo alla stessa cosa che dicevo all'inizio quindi sta ricapitolando un po' il suo ragionamento non dobbiamo accettare qualsiasi cosa come capita nella sequenza in cui ci arriva ma soltanto le cose che sono utili usa questa parola chresima quindi quando leggiamo non dobbiamo accettare tutto quel che leggiamo ma solo ciò che è chresimon utile e in effetti è vergognoso che noi respingiamo le cose dannose per quanto riguarda il cibo ton sition tabla vera le cose dannose per quanto riguarda il cibo e pensiamo quanti problemi si fa la gente su quel che mangia al giorno d'oggi mentre invece non ragioniamo per nulla medena logo nechein riguardo ai matemata alle ai cibi dell'intelletto in un certo senso agli insegnamenti che tempsuchene mon trefei che nutrono la nostra anima ma scorrendo parassurontas come un un torrente fangoso che marrun tiriamo dentro e imballestai tutto ciò che ci capita a pantoprosti con allora quello che dice basilio è che il cristiano quando legge deve leggere con occhio critico cioè a partire dalla sua fede legge e esclude il fa un'opera di filtraggio di questo torrente fangoso toglie il fango e tiene l'acqua pulita esclude ciò che è inutile e tiene tacresima ovviamente questa questo tipo di lettura delle cose è una lettura che ci porta a partire prevenuti cioè noi partiamo dalla nostra posizione e leggiamo quello filtrando sulla base della nostra posizione il che ci può insegnare qualcosa ma ci porta a combattere contro ciò che leggiamo in un certo senso a cercare di spaccarlo per per prendere il buono la mia provocazione è questa è davvero utile questo metodo di lettura è un santo che lo consiglia d'altronde è davvero utile questo metodo di lettura o non rischiamo di ripetere di rivedere in ciò che leggiamo ciò che ci vogliamo leggere non dovremmo invece essere vulnerabili a quello che leggiamo per trarne un profitto però anche essere vulnerabili a quello che leggiamo è un pericolo quindi come si risolve questa cosa lo lascio così come spunto di riflessione grazie aprivo le discussioni su questo adesso andrebbe vanti un sacco sì sì qua ci vuole ci vuole una notte intera di riflessione prima di rispondere ciao ragazzi buonanotte 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 a tutti grazie 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 grazie